90 milioni stanziati per la salute in agricoltura con il bando ISI 2023. 50 milioni in più rispetto all'anno precedente, lo annunciano l'INAIL e il Ministero dell'Agricoltura. Nel quinquennio 2018-2022 gli infortuni riconosciuti dall'Istituto sono stati oltre 114.700, di cui 448 mortali. Circa la metà di questi per la perdita di controllo di una macchina agricola. Incidenti e infortuni però sono in calo nell'ultimo anno del 2-3%. E ora sentiamo su questo il Ministro dell'Agricoltura Lollo Brigida e poi il Commissario d'Ascenso. Vogliamo modernizzare, aumentare la produzione, migliorare la qualità della vita dei nostri agricoltori e ovviamente uno dei primi pilastri a proprio renderla più sicura. Prevenzione vuol dire incentivare le imprese ad investire in sicurezza. Noi ci mettiamo tutte le risorse che siamo in grado di metterci, ci aspettiamo ovviamente che le imprese raccolgano questo nostro invito e ci presentino dei progetti che appunto consentano di apportare questo miglioramento al settore, che già c'è stato ma ci può essere sicuramente di più.